Andiamo avanti con il lavaggio dell'auto In questa parte andremo a vedere insieme la tecnica di lavaggio a due secchi Questi sono i due secchi, questo è un secchio che ho rimediato per vernici Dentro c'erano le vernici, l'ho pulito a dovere Questo c'era del miele e ho rimediato pure questo Questo lo andrò a utilizzare insieme a questa griglia per mettere i guanti sporchi e andarli a pulire In quest'altro invece andremo a risciacquare poi il guanto successivamente Andrò a utilizzare Pur 4.0 shampoo di solo dettagli carcare Come diluzione mi regolerò con quello che c'è scritto qui Quindi 8 litri di acqua, 40 ml di prodotto Questo è un secchio di 10 kg Quindi più o meno un litro equivale a un chilo Quindi andremo a riempirlo fino a qua Questo è il nostro secchio pulito Questo è un misurino che ho io, 40 ml di prodotto Ok ragazzi cominciamo con il lavaggio della macchina Con il guanto, io parto sempre dalla parte superiore Quindi tetto, i vetri, poi risciacquo Parte di metà della macchina, risciacquo Poi cambio il guanto, prendo un altro guanto che vedremo dopo insieme Faccio la parte bassa con dentro i passaruota Risciacquiamo e poi andremo a utilizzare il panno in microfibra che abbiamo visto prima Ricordiamoci di sciacquare sempre e spesso il guanto nell'apposito secchio con griglia Così da pulire al meglio il guanto E poi andarlo a immergere nuovamente nel secchione con la soluzione A proposito di soluzione, volevo parlarvi un po' dello shampoo SDPUR 4.0 È uno shampoo veramente fantastico L'ho provato, come potete vedere, veramente eccellente E ha una particolarità notevole Ovvero è uno shampoo anticalcare In quanto ha un pH pari a 4 Quindi è leggermente acido Una volta diluito, secondo gli studi fatti, raggiunge un pH approssimativo di 6 Quindi resta ancora leggermente acido E questa è quella nota particolare che gli dà il dettaglio di essere anticalcare Di formare calcare Ovviamente è molto concentrato Quindi le diluizioni sono più o meno quelle che avete visto prima Però posso assicurarvi che è veramente spettacolare Inoltre gode di un'altissima lubrificazione Questo permette di andare a fare minor danni possibili alla macchina Ovviamente questo ci dà la possibilità di non andare a spingere tanto con il guanto E quindi appunto non andremo a produrre i fastidiosi swirl Inoltre volevo parlarvi appunto di questo guanto Un guanto eccezionale pure questo Il Profi Polish Wash Meat Deluxe Guanto da lavaggio a pelo lungo Pure questo è un prodotto top In quanto ha la combinazione di fibre corte e fibre a pelo lungo Che sono per il 70% in poliester e il 30% in poliamide Veramente una soluzione ottimale Quindi praticamente stiamo utilizzando tutti i prodotti Praticamente top Non c'è niente da dire al riguardo Questo che vedete ora è il guanto che utilizzavo prima Quindi adesso lo passo per le parti più sporche Dove andiamo a fare praticamente più danni Ho deciso di utilizzare questo panno che ha questo Non so come chiamarli insomma Questo pelo molto lungo Così da non rischiare di andare a rovinare troppo la carrozzeria Ma tanto sono le parti basse ecco Quindi non ci interessa molto il risultato ecco Passo anche bene dentro i passaruota Questo io me lo tengo sempre alla fine Una volta che con il guanto ho fatto tutte le parti Quindi non vado a rischiare poi di andarlo a riutilizzare sulla carrozzeria Me lo tengo per quella parte che di solito sono le parti più sporche Li sciacquiamo bene per la terza volta Sempre accuratamente Io come avete visto sciacquo sempre prima dal basso verso l'alto Diciamo che è la tecnica migliore per evitare la creazione di aloni e di colature fastidiose E poi con il panno in microfibra Ragazzi utilizzate un buon panno Quindi non quelli scrausi cinesi E questo lo vado a passare sulle cerniere delle porte Dentro le porte Il tappo della benzina Tutte quelle parti Ovviamente non dobbiamo preoccuparci poi per il rischiacquo Perché non è che vado con l'itropulitrice a portiera aperta Così frasico tutta la macchina Ma basta con la pressione e l'itropulitrice Passare nelle fessure degli sportelli Del tappo eccetera eccetera Ovviamente anche il portellone del bagagliaio Qualche pezzo l'ho tagliato Sennò il video veniva veramente lungo Però questo è il procedimento Ok ragazzi abbiamo finito il lavaggio E volevo farvi vedere i residui di robaccia Questo è il secchione che vi ricordate che abbiamo utilizzato per pulire il guanto E guardate un po' Cioè è veramente pieno di roba Poi Di qua invece abbiamo Il nostro secchio che abbiamo usato Con lo shampoo Vedete è praticamente limpido Ci sta giusto qualche impurità Ma niente di che insomma Se noi non avessimo utilizzato questa tecnica con i due secchi Tutta questa robaccia Ce la saremmo ritrovata sul guanto Cioè di praticamente Andare a intaccare la corruzzeria Poi con un guanto così sporco Andiamo praticamente a danneggiarla E di non poco Quindi ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate Vi ricordo inoltre dello sconto Su solo dettagli Car Care Vi lascio tutte le info in descrizione Per questo video è tutto Ciao ragazzi Ciao